Esatto, Salvatore Borsellino si dispiace ovviamente di non poter essere con noi ma non penso che sappiate tutti che sta pedalando in questo momento e sono arrivati a Cervelu e domani ci sarà l'arrivo della ciclostraffetta qui nella casa di Paolo quindi è tutto rimandato, oggi siete qui ma vi vogliamo domani celebrare questi ragazzi meravigliosi che hanno portato a termine porteranno a termine questa impresa bellissima di riportare l'agenda da Bollate a Paderno Grazie Naturalmente non useremo nemmeno noi il microfono perché avremo la voce più naturale perché in Italia si sentirà una di più, una di meno ma importa poco non vi spieghiamo nulla, noi cominciamo e finiamo, va bene? e poi se volete qualche spiegazione ve la diamo, è un unicum che parte da una nanna antica che parte da Livatino e finisce il giorno del funerale di Consiglio che parte da Livatino e finisce il giorno del funerale di Consiglio che parte da Livatino e finisce il giorno del funerale di Consiglio che parte da Livatino e finisce il giorno del funerale di Consiglio che parte da Livatino e finisce il giorno del funerale di Consiglio che parte da Livatino e finisce il giorno del funerale di Consiglio non c'è comunque questo profculo 13 che parte da Livatino e finisce in Italia e facciamo saltare la nostra vita ed è il giorno del Fuoco e il giorno del Fun again Come gli appi di una madre, l'ultimo piangente E senza più lacrime, suffite, uccise un noccente Non c'è pane che ci tolga la fame E non c'è niente, non c'è ancora niente Nella nostra gente, cammina fino al nenne Camminiamo qui in sedia, con l'acqua che a scura Picca picca le parole, arrivano vicini Dissendo un rete, come sta che legge a legge Cammini con moglie Come una voce di una vecchia reggia che canta L'uso figlio, l'idoncizio della vita Ancora va a fare, va a sennare Ma va a chienare in capo l'albero della vita Con sopra che gira e te ci canta Ah, lola 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Basta un sorriso e tutto si trasforma La vera fisica dell'universo Non basta un sorriso e tutto ti ritorna come una speranza No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sono grida, uccelli e sirene di novi E i rumori continui della campagna Sono i latrati di un cane, quello che ho sentito Qui nel silenzio delle luci sole Sono le innocenze turbate, avvelenate e uccise dalle corruzze Sono gli sguardi indifferenti Le risa degli impostori Quello che ho sentito Di silenzio delle luci sole Dentro quali traballanti rifugi Nascondiamo le nostre lebolezze Dentro quali certezze Rassegnate e abbandoni Volontari e ignoranze Disfracimenti Qui nel silenzio delle luci sole E questo silenzio Cammino cercando Ciò che non sono quello che non c'è E mai Sono grandi lenzuola alle finestre Come pianti sui dali Sulle teste E sui bisogni della gente La paura e le assenze Quello che ho sentito Qui nel silenzio delle luci sole E' finito tutto Disse qualcuno E un giornalista che li intervistava Disse Allora ricevi nessuna speranza Per questa nostra vita E questo qualcuno ancora disse E' finito tutto Banale Senza consistenza E il male Per questo Terribile il male Quanto più è banale Cosa rimane della mia amica Un ultimo istante Una ferita Da cui sforgano parole Che non sapevo più dire Partire Verso un'oscura monogonia Dimenticare che amalo ti amo Ma il mio sorriso non buttarlo via Mio Dimenticare che amici Grazie a tutti Grazie, non c'era microfono quindi non ho il ritorno, però mi è piaciuto anche questo fatto che abbiamo condiviso con la voce perché a volte queste voci sole, a cui si riferiva alla canzone, non hanno microfono, quindi bisogna tendere le orecchie per ascoltare ed è una cosa che noi forse non siamo abituati, dobbiamo imparare ad ascoltare perché ascoltando forse riusciremo a sintonizzarci meglio sui bisogni, non solo i nostri, anche degli altri, a comprendere che a volte dico malgrado tutto, non è solo una questione di perdono, è una questione proprio di avere delle possibilità, avere delle chance, sapere che c'è una strada che si può percorrere, ma qualcuno ce la deve indicare. E non è così semplice. La strada che stasera noi volevamo indicare è la nostra tradizione, anche se non siamo succubi o prigionieri di una dimensione folclorica. Abbiamo da dire delle cose e le diciamo in maniera reale, diretta, metaforica, allegorica, partendo dagli antichi carrettieri, dai poeti arabosiciliani e passando, non so se l'avete sentito, questo sorriso che comunque sia legge, che era un riferimento a padre Buglisi, al funerario di Paolo Borsellino, alla protesta dei lenzoli bianchi, alle lenzuole bianche, all'aullamento del venerdì santo che da noi trova una caratterizzazione molto profonda e antica. Maria passa, questa Madonna che vede questo figlio e c'è il Fabio che sta facendo i chiodi e lei non vorrebbe che gli facessero, invece qualcuno deve pure martirizzarsi perché se il Fabio non fa i chiodi al posto di Gesù mettono a lui. C'è questo fatalismo quasi, no? Irrisolvibile e irrivemibile, invece no. Invece no perché siccome siamo qui oggi, sono molto contento di esserci, anche senza microfono, è molto più bello che questo. E io sto attenendo l'emozione, scusate. E' raro, provare un aspetto anche artistico senza, diciamo così, avere come primo obiettivo il mettersi in mostra, no? Perché un artista si mette sempre in mostra. Invece qui abbiamo cercato di darvi quello che noi siamo intimamente, la nostra piccola anima, ed è un qualche cosa che, meno male, si vede. E siamo contenti di condividerla con voi. Grazie. E noi non finiremo mai di ringraziarli perché vedete che la magia della casa di Paolo è soprattutto questa. è una cosa che si verifica di giorno in giorno. Qua siamo, è tutto un po' così, voluto dalla buona volontà e dal... Andiamo avanti dedicando il nostro tempo libero. E tutto quello che vedete che succede in questa casa sembra quasi un miracolo. perché dall'emozione di una persona che, figuriamoci in sé, non è abituata a cantare fuori, tra la gente. Però quello che avviene qua dentro è speciale e si sente, si percepisce. Adesso abbiamo il piacere di ascoltare la poesia di una persona a cui dobbiamo la casa, perché devo dire che tutto... che se si è verificata la possibilità di sistemarla, di ristrutturarla, perché le prime volte che entravamo qua dentro è un altro. Io più volte le ho chiesto di riportare le foto perché non avete idea. Una stalla sembrava. Anche peggio, sembrava una caverna, un altro, non lo so, di uno degli inferi, perché uscivano, dalle pareti uscivano dei ferri, come se fosse quasi una canna di ristruttura. Cioè, come era ridotta, era una cosa davvero... Non c'erano pareti. Non c'erano pareti, non c'era pavimento. Tutto quello che vedete adesso è davvero un miracolo. E devo dire che lo dobbiamo anche a Lina, perché Lina ha aperto una sottoscrizione... Litigando con Salvatore. Litigando con Salvatore. Che non voleva niente da nessuno. E io a un certo punto ho detto, non me ne frega niente, se tu non vuoi io la faccio. Sono riuscita ad accogliere circa 15.000 euro, ma poi c'è stata tanta altra gente che ha donato veramente. Bisogna ringraziare tutta l'Italia. E noi grazie. Vai con la poesia. La prima poesia ormai è diventata una poesia. Per chi non conosce la casa di Paolo, la dobbiamo spiegare cos'è. Certamente in maniera poetica. La casa di Paolo. La casa di Paolo è un piccolo grande sogno. Un occhio sul mondo che finalmente si apre alla luce della verità, della storia. Un sogno che giorno per giorno, pietra su pietra, alza muri di trasparente nuvole, cristalli di cielo. Per vedere come occhi che scavano sin dentro l'anima, chi ancora come bandiera mostra di avere un cuore. Che leggero, sensale, si invola fino al cielo. La casa di Paolo. A finestre di luminosi sorrisi. Porte di luce. Rosse agende zeppe di parole d'amore. Di poesia. Di mani che si tendono. Si stringono. Leggano con figli di generosa solidarietà il sogno per non lasciarlo spuggire. Non lasciare che si dissolva come neve al sole. Come una boccata di fumo che il vento desperde. La casa di Paolo era e sarà sempre una storica realtà dentro il cuore antico di Palermo. E' un'altra che è nuova e mi dispiace perché non conosco il siciliano. Io scrivo prevalentemente in siciliano e quindi non ne posso fare almeno. Qualche volta metto le traduzioni, qualche volta no. Questa è datata 25 giugno 2017, quindi nuova. Anche se ne ho scritto decine per Paolo. Dedicata a Paolo Borsellino e ai suoi ragazzi. Loic, catalano, butina, traina, limuri. 25 anni. E' ancora scuro. 25 anni scelto stagione di sapore, colore, senza le vostre occhi, le vostre passe. 25 anni di sanote di cielo attemporale, sbadicchi di sulle, santurina di madre, stanco di lacrime, stile cadute, e tante auciacchianate per fare i chiarore. Ma non c'è stile. L'uscio di luna, che sbroglia, stenne all'aria aperta, lo vento, come c'è ruse, c'è ruse, c'è ruse, c'è ruse, c'è ruse, coltate, de robe. La verità. Nesta terra, Paolo. La sonnava è bellissima, ancora è verde lo tempo, come zolva attaccata all'uniovo della menzogna. Ancora sta terra ave a niente e coscienza all'oscuro. Non è ancora tempo di luce, splendente, come chi decalluminavano e facevano un menzogno puro l'oscuro della nostra vecchia voceria, mettendo un chiaro nome di mannante, incrastato su tasarme di sale e di mestere, che un fame di cui pepe sognino si vinde. Nome. Che gridano come le morte, stanche di menzogne, delle tante non saccio, non ma ricordo. Morte con l'osso aggrancato sull'altra, terra, che tutte sanno, tutte sapremo, come l'ABCD. Nome, però, ancora occupate, assintomate, sottanino di vele e di complicità, a proteggere la città a sede malo tempo, con le facce dello peccato mortale, e le guardie arrebottute. Case la spassano solo per chi, con scanto e di nade, attoppano bucchie, siccano coscienze di certe puliglie e pecorona, poi così dolce, con le scarrossa, le cade già, facendole passare per omene digne, quando invece sono lo ritroffo dell'umanità. morte di fame, con le pezze in tuo culo, senza tetto, scarpe, coperte, di sicuro hanno più corrette dignità, di certe bastardi, assampiccate in ciavilla e palazze, che avevano bruciato la vita. Grazie. 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 Noi abbiamo una caratteristica noi siciliani, che quando le cose ci vengono dal cuore vengono in siciliano, c'è niente da fare. Ed è quello che si percepete dalle tue poesie. Siciliano, devo scrivere in siciliano. Va bene. Se vengono in casa, con loro che andavano a giocare se uccidino al campo, oggi mi è stato detto gli annunciati, se puoi di me la prima pista di gioco. sta per cominciare la partita. Sta per cominciare la partita. Quindi i ragazzi che devono andare a giocare si potrebbero avviare. Però noi abbiamo qui Daniele che ci deve... Daniele gioca. E ci deve mandare qui il video. C'è qualcuno in grado di sostituirlo? No, no. Questo video che stiamo per mandare è il video di una canzone che io personalmente ho ascoltato a Cammarata in un incontro con gli studenti. Ora, non so se è qui l'autore di questa canzone perché so che sarebbe venuto. Si chiama Locascio. Si chiama Locascio. Io non lo conosco quindi non so se per caso è qui. Il cantante purtroppo non ha il tempo. Daniele? E l'audio non... C'è solo un ruolo. L'autore... L'autore si chiama Locascio però quanto male non c'è. Va bene? E' una canzone che è particolarmente piaciuta quindi abbiamo deciso di farvela ascoltare e farvi vedere il video che ci hanno mandato con la canzone. Grazie a tutti. 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 Dobbiamo portare un cambiamento, non sanno anche dalle piccole cose, dalle nostre abitudini di tutti i giorni. Possiamo farlo anche con le nostre passioni, con quello che amiamo più fare. La mafia si nutre di illegalità e noi dobbiamo combatterla e portare l'arte e la vera cultura nelle nostre piazze, nella nostra società. Hai ragione. Però, aspetta, non è il problema. Perché in realtà loro non sono morti, perché le loro idee camminano ancora sulle nostre gambe. Noi vogliamo un mondo diverso, un'Italia diversa. Questa nostra Italia a cui ci sentiamo di appartenere con orgoglio, che non è solo sole e cultura, ma anche lacrime e sangue. E la Sicilia, una goccia di colore rosso vivo tra il verde dei boschi e l'azzurro del mare. In questa goccia profonda la mafia vive, nutriendosi come una velenosa sanguisuga, sterminando le sue vittime con violenza, arroganza e crudeltà. Dobbiamo ribellarci per costruire il nostro futuro. Un futuro che sia libero dal condizionamento mafioso. Che spezzi le catene del malaffare. Che liberi le nostre piazze dalla droga e le riempie di arte e cultura. La mafia è disprezzo della bellezza che intorna a noi, a orizzonti infiniti, ma che viene coperta e avvolta sotto un telo bianco, soffocata dai silenzi, insanguinata dal rosso dell'innocenza, nascosta dai visi validi, menefreghisti, indifferenti e colpevoli. La mafia è mancanza di giustizia, assenza di maletà, ignoranza. L'arte è conoscenza. L'arte è consapevolezza. L'arte è antimafia. L'arte è uccidere la mafia. L'arte è un gruppo di giudizia. L'arte è un gruppo di giudizia. L'arte è un gruppo di giudizia. Come dicevo prima, infatti noi abbiamo un gruppo nelle Marche, un gruppo in Fiori, L'Ecce Giulia, e da poco, perché si sta tornando anche un gruppo a Milano, e anche in Sudamerica, in Argentina e in Uruguay, abbiamo diversi gruppi. L'arte è un gruppo di giudizia. L'arte è un gruppo di giudizia. L'arte è un gruppo di giudizia. Lascio la parola a questo gruppo a Bea, la rappresentante del gruppo Our Voice 3. Salve a tutti. Tanto vorrei dire che per essere qui oggi abbiamo corso 20 minuti, perché ci tenevamo troppo e ci spiaceva non esserci è importantissimo siamo venuti qui con varie disavventure dal Friuli non siamo tutto il gruppo ma siamo solo alcuni magari io siamo venuti perché certo è importantissimo è importantissimo ricordare Borsellino ma non solo non solo perché tutte le persone i giusti che oggi combattono per portare avanti i suoi ideali per portare avanti quello in cui gli credeva devono essere aiutati devono essere sostenuti perché il peso il peso della lotta alla mafia non può essere portato avanti solo da pochi è un peso troppo grande è un peso troppo gravoso quindi tutti noi tutti noi che siamo qua noi giovani con la War Voice ma tutti tutti i cittadini italiani dovrebbero in qualche modo mobilitarsi dovrebbero in qualche modo non soltanto sostenere ma essere in prima persona loro fare qualcosa per il cambiamento perché io credo che non potremmo mai sperare in uno stato nuovo in uno stato più giusto in uno stato senza collusioni se cominciamo a ricostruire se cominciamo a sperare in qualcosa di nuovo ricostruiamo sul marcio in uno stato colluso quindi è interesse di tutti noi di tutti noi che qualcosa cambi la mafia venga sconfitta e anche se si crede che magari è un problema solo del sud e questo lo dico per esperienza personale perché molte volte noi che siamo nei priori molte volte si crede che questo non è un problema che ci interessa perché è un problema che interessa solo diciamo una storia di stragi invece sappiamo tutti che non è questa la verità che la mafia si è evitata nello stato e hanno inciso il borsellino proprio per questo anche perché lui l'aveva capito quindi vi ringrazio per noi è bellissimo e è un onore essere qua grazie Ciao a tutti allora io sono la rappresentante e adesso c'è il progetto di organizzare un altro gruppo Our Voice su Milano e sono qui appunto con voi perché voglio rappresentare anche i ragazzi su Milano e perché penso che tutti tutti i cittadini italiani hanno il diritto di sapere la verità e di agire non solamente a parole ma le azioni sono fondamentali e vogliamo tutti ringraziare Borsellino Paolo Borsellino per le sue azioni sui diari che ci ha lasciato perché siamo convinti che grazie a lui riusciremo a fare tanto e a cambiare e tutti insieme insieme e con amore grazie a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti